La Città Sepolta È una città desolata, piena di insidie. Ve la sentite di andarci lo stesso? Voi rimanete qui e datevi da fare per aiutarmi a togliermi questa maschera. Nella città è nascosta un'ampolla. Trovatela e tornate subito qui. Un'ampolla? Tutto qua? Non un'ampolla qualsiasi. L'ampolla di Erathia, un dono che ricevette Einar, divinità degli antichi. Allora non è una leggenda. Una favola per bambini. Allora non avete nessun suggerimento da darmi, eh? Quando la troverete, capirete. Ah sì? Forse mi sopravvalutate. So giudicare gli altri. Di solito. Va bene, non muovetevi di qua perché ho intenzione di tornare presto. Prima o poi dovrete togliermi questa maschera. Che audacia. Sarà davvero lui? Oh ma è tutto! Oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.